a eh Monteore delle delle ginnaste di alto livello è proprio è proprio sulle 6-8 ore al giorno andiamo a vedere adesso Fanny Pigniski con la sua esercizio alla palla ah una brutta perdita per Fanny purtroppo anche un appoggio della mano anche questo è un brutto errore peccato un po' di errori